Ciao a tutti e a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi un secondo. Praticamente è successo che ci sono stati dei commenti sul fatto che io abbia fatto quel video dove facevo i miei salti di pattinaggio. Ho visto che a molta gente non sono piaciuti. Perché, raga, vi spiego perché? Ovviamente non sono venuti molto bene. Perché non mi vengono molto facili. Senza pattini. Quindi, cioè, mi vengono molto più facili che pattini. Poi mi avevano detto, potresti farli con i pattini? Io gli ho detto, no, non posso. E mi hanno risposto che se li potevo fare fuori. Ma io ho fatto un giardino in pietra, non è molto facile pattinare. Posso rovinarmi molto facilmente le ruote. In casa, cioè, raga, guardate, c'è una che posso saltare in queste condizioni che rimomba tutta la casa, si spezza in due praticamente. Se riesco ve li posso fare a pattinaggio. Ma non so se sarà facile. Perché le mie amiche non mi possono registrare durante l'allenamento. Gli insegnanti pure. E c'è mia nonna che è lì. Ma, raga, non so fare una foto. Figuriamoci un video. Comunque, volevo dirvi che mi dispiace per questo video che vi sia venuto molto male. Grazie comunque per gli iscritti che si sono iscritti al canale. Soprattutto degli altri video. E volevo anche dirvi che praticamente Gli iscritti sono ovviamente aumentati, soprattutto i like. E molte grazie. Questo video non so neanche se contarlo. Come far parte del canale, solo per avervi detto soltanto qualcosa. Ovviamente c'è, raga, il video che ho fatto con Stella. Nel mio armadio. Lasciateli perdere. Guarda, gli ho detto 350.000 volte quello che devo dire. Gli ho anche scritto grosso così sulla parete, su un foglio. Non gli ha capito lo stesso. E quindi, c'è, raga, lasciate perdere. Anche se, ovviamente, quel video non è venuto per niente bene. Infatti non volevo neanche postarlo, ma ovviamente ne deve stoccare tutto. E allora, c'è, raga, volevo anche dirvi di andare a seguire. Ginevra e Jacopino. Adesso ho fatto solo pochi video. Ovviamente ne aveva fatti 4 o 5. E comunque, ovviamente, siccome voi siete un po' di più che mi seguite rispetto a lei, mi dico, andatela un po' aiutare. Perché ogni volta mi dico, Marti, ma perché nessuno mi segue? Io li faccio, guarda che sei ancora all'inizio, perché anche a me, all'inizio nessuno mi seguiva. E ciao, raga.